Musica Salve spettatori e benvenuti in questa nuova lezione di CSS Oggi effettivamente parliamo della decorazione del testo Come modificare il nostro testo all'interno della nostra pagina web Andiamo subito al dunque senza perdere tempo Oggi lavoreremo sulla classe test che abbiamo fatto tempo fa In realtà nelle prime lezioni Sono diverse fra loro, le andiamo a vedere sul sito Sono questi tre box qui E su questi andremo a modificare un pochettino Innanzitutto abbiamo visto la proprietà text align Per centrare o meno il testo all'interno del box Come vedete qui sono sul center, quindi al centro Potrete ben immaginare abbiamo right e left per le posizioni Un'altra che invece non conosciamo è justify Justify effettivamente raggruppa il testo Ecco adesso noi non lo notiamo un granché Perché essendo una scritta a linea unica O in questo caso addirittura una parola unica Sembra semplicemente un allineamento sinistra Invece in realtà se ci fosse più testo Adesso diamo un modo per mostrarvelo Come vedete il testo effettivamente viene raggruppato tutto quanto in un punto Questa bene o male diciamo che è la differenza Per quanto riguarda le altre proprietà abbiamo la proprietà color Che in questo caso è settata su blu Che abbiamo già visto, abbiamo già spiegato che cosa serve ovviamente Per dare il colore al testo Andiamo adesso invece su text decoration Il text decoration ci permette effettivamente di dare in questo modo Una decorazione neutrale Per decorazione si intende per l'appunto sottolineato, barrato eccetera Cosa che ci servirà come ad esempio per i link che vedremo la prossima volta Se vogliamo togliere quella sottolineatura bruttissima dei link L'overline ad esempio Come vedete abbiamo una linea superiore Dopodiché abbiamo l'underline Ovviamente la sottolineatura classica Infatti il testo ora è sottolineato Abbiamo il line trout Line trout che cosa significa? Significa sbarrato Quello che possiamo vedere ora ad esempio invece è il text transform Un nome molto bizzarro Andiamo a vedere ad esempio con il lowercase Lowercase viene convertito tutto al minuscolo Come vedete anche questa scritta qua è diventata a minuscolo La sua controparte l'uppercase per fare tutto quanto maiuscolo invece E voilà Tutto quanto viene convertito automaticamente in maiuscolo E infine abbiamo il capitalize Scriverlo bene Perfetto Che cosa fa? Mette tutto minuscolo ovviamente dove il testo è minuscolo Ma la prima lettera di ogni parola notate che è in maiuscolo Non so che cosa serve esattamente però è uno stile abbastanza carino Diciamo da una forma ondeggiante effettivamente Qua invece è tutto maiuscolo quindi non notiamo differenza Un'altra proprietà è il text indent E qui ci dobbiamo mettere una misura in pixel ad esempio 10 pixel Questo praticamente indenta il nostro testo Ad esempio vedete che ha spostato tutto il testo un pochettino più in là Ora se invece di center andiamo a mettere ad esempio left Sicuramente notiamo di più la differenza Perché da dove parte il testo vedete che siamo spostati di 10 pixel rispetto il margine Questo è proprio l'indentazione del testo Come ad esempio quando scriviamo dei paragrafi eccetera Bene o male serve proprio a questo Un'altra cosa è il letter spacing Dovrebbe essere così Magari lo scrivo giusto Ok letter spacing E gli diamo effettivamente dei pixel Questi pixel vanno a dare la distanza tra una lettera e l'altra Ci sono 5 pixel di distanza tra una lettera e l'altra ora Ma possiamo darglieli anche in negativo E quindi in questo modo avvicinare ancora di più le lettere Diventa uno proprio di questo tipo che non si capisce più che cos'è Però come vedete ad esempio questa che è più grande Ci sono le lettere molto appiccicate Ovviamente evitiamo In questa cosa abbiamo il line 8 che fa questo effetto in altezza Quindi distanzia la linea dall'altra Ecco ad esempio ora qui settandola la distanza 5 pixel devono essere decisamente pochi Se proviamo a metterne 50 ad esempio Ok vedete che ad esempio adesso la distanza è decisamente maggiore Se ci venisse la malsana idea di fare il testo al contrario Possiamo mettere direction rtl E questo ci permette di scrivere il testo al contrario Se notate in realtà non si nota del tutto Perché probabilmente riordinandolo come così Non si nota tanto il distacco ma il punto di domanda finisce prima di tutto il resto in effetti Come abbiamo il letter spacing qui abbiamo il word spacing E sempre stesso discorso Ad esempio 5 pixel La distanza tra una parola e l'altra Quindi non tra una lettera e l'altra ma tra una parola e l'altra Ovviamente sempre in negativo e avviciniamo decisamente di più le parole Ecco come sono tutte appiccicate Ciao come stai? Tutto attaccato praticamente Infine abbiamo il text shadow Il text shadow ci da la possibilità di dare un po' come il box shadow Quello spessore, quell'ombra esterna Che noi possiamo spostare tramite i pixel E poi dagli un colore ad esempio pink Vediamo che cosa salta fuori Vedete che effettivamente ha una sorta di ombra Ok gli da questa, quest'ombra Ovviamente i 3 pixel che sono spostati Ora ad esempio se qua mettiamo 0 pixel Ok abbiamo sicuramente uno spessore Un'ombra in larghezza laterale e non a livello di altezza Bene quello che andiamo a vedere invece adesso sono i font Finalmente scopriamo come cambiare i font alle scritte del nostro sito Rispetto a questo di default Possiamo fare con la proprietà font family E ci sono già delle famiglie date diciamo di css Qui ad esempio io ho trovato questo link che ci mostra tutto il Una lista di font Queste sono le famiglie Possiamo definirle così Prima gli diamo effettivamente il nome del font preciso Ad esempio questo Credo sia questo Certamente non lo so non è Non sono solito usare font E lo mettiamo tra doppi apici Dopodiché gli diciamo di quale famiglia A quale famiglia appartiene In questo modo dovrebbe dare questo font Vediamo qui in teoria questo qua di fianco Vediamo se notiamo differenze Effettivamente il font è leggermente cambiato Vedete sicuramente è un font di questo tipo Proviamo ad esempio a mettere Quindi mettendo qui il nome del font Ripeto questa è la famiglia Brown fox Vediamo con brown fox Che cosa succede No bene o male rimane sempre su quel tipo Andiamo magari su un altro tipo di famiglia Tipo questa Lasciandogli sempre il brown fox Ok abbiamo un altro font ancora Come prima abbiamo visto effettivamente La possibilità di sottolineare eccetera Le nostre scritte Ora abbiamo il font style Italic ovviamente per farlo Stessa cosa possiamo farlo con obliquo Meno male la differenza è minima Se non nulla Altrimenti andiamo sul normal A prescindere dal tipo di scritta che abbiamo Noi possiamo settare una font size La font size praticamente determina la grandezza della nostra scritta Ora abbiamo messo un 5 pixel Che sono veramente piccolissimi E come vedete anche questo che era un h2 mi pare Non mi ricordo Che comunque è una scritta più grande di quelle Viene messa grande uguale a tutte le altre Quindi anche questo è tranquillamente manipolabile Il consiglio che do io qui è di dare una grandezza in percentuale Perché? Perché soprattutto nelle parti in cui andiamo a stringere 5% evidentemente è troppo poco Andiamo a mettere un 50% Dove andiamo a stringere il nostro sito Capita spesso che il testo è troppo grande Quindi se si rimpicciolisse anche il testo Sarebbe molto più bello perché non deforma l'estetica del sito Ora andiamo a mettere ad esempio un 100% E ritorna a come era prima Un 150% e di sicuro sarà una volta e mezzo più grande Di come lo vediamo adesso Chiaro che se noi stringiamo Anche il nostro testo diventa sicuramente più piccolo Un'altra proprietà che abbiamo è il font weight Che possiamo metterlo effettivamente bold Quindi diventa spesso Diciamo la larghezza del font Ok? Lo spessore insomma Possiamo farlo tornare su normal Come appunto è di default Lighter che effettivamente è più snello Altrimenti gli diamo proprio una dimensione Ad esempio 500 500 non si nota tanta differenza Abbiamo anche la proprietà font variant Che può essere normal Su default Quindi così com'è Oppure small caps Small caps praticamente mantiene la scritta piccola com'è Però tenendo un font maiuscolo Ossia le lettere sono maiuscole Anche se la lettera insomma Quella che è di maiuscola a livello di testo È più grande delle altre chiaramente Questa è la differenza L'ultima cosa che possiamo vedere Ma non per importanza È Noi abbiamo visto che possiamo settare effettivamente dei font Che troviamo su una lista Bene Ma se noi vogliamo mettere un font da zero Scaricato da internet Che gli altri non hanno Perfetto Andiamo a vedere effettivamente come importare un font La prima cosa che andiamo a fare È cercare su internet effettivamente un font che ci interessa Lo possiamo ad esempio andare a cercare su un sito Che si chiama da font Da font.com Qui noi possiamo trovare il font che più ci interessa Vedere come si chiama E cercarlo su internet Con determinati nomi Ad esempio Noi andiamo nel CSS A creare una nuova cartella chiamata font Dove andremo a inserire tutti i nostri font Ora questi che ho inserito qua Erano dei font che io già avevo nel mio computer Che ho scaricato diverso tempo fa Da un market che era gratis Ovviamente alcuni font che potremmo andare a cercare Potrebbero anche essere a pagamento Quindi bisogna cercarli bene L'importante che c'è da sapere È che voi servono questi file qui Ossia almeno un file woof Un file open type Un file true type E un file eot Questi sono i file importanti Per permettere al vostro font di essere leggibile A praticamente tutti Il secondo passaggio che andremo a fare Sarà andare nel nostro CSS E mettere questa regolina Cioè importare effettivamente la nostra font face Nel font face noi gli andiamo a dare un nome Questo è il nome che poi andremo a utilizzare sul font family Qui gli andiamo a mettere l'url dei vari file Come vedete qui ho già preimpostato la directory Di dove si trovano i vari file In questo caso io avevo utilizzato degli altri file Quindi ora vado a cambiare le directory con il nome di questo file Ad esempio qui sull'eot Noi andremo a mettere questo Ok gli date il percorso effettivamente di dove si trovano E ricordatevi sul format di stare attenti Che ci sia effettivamente la loro estensione Poi se gli vogliamo dare delle modifiche già presettate Come il font style O il font weight Ad esempio noi possiamo decidere che di default Questo è italic Oppure gli diamo un bold Eccetera Insomma ecco i settaggi preimpostati che gli possiamo dare In questo caso noi lo vogliamo normale Solo che vogliamo questo A questo punto una volta importato tutto Noi andiamo a prendere il nome del nostro font E lo andiamo a mettere sul font family Qui Vediamo effettivamente questo nome E basta E noi dovremmo avere il nostro font importato Detto questo spero di esservi stato utile anche in questo video Vi invito a lasciare un like e condividere questo video In modo tale che può essere utile anche ad altre persone Iscrivetevi per un video tutorial come questo E noi ci vediamo nella prossima lezione di CSS Al prossimo video Grazie per la visione Grazie per la visione